Ma insomma certe cicatrici è difficile toglierle anche se sembrano passati tanti anni ma sono stati momenti dolorosissimi. Sicuramente la gente di Bergamo è sempre abituata a reagire anche nelle difficoltà ha avuto tutta la città una grande capacità di reazione e noi come squadra non potevamo essere diversamente è chiaro che non riusciremo probabilmente a togliere tutti quei dolori però a regalare un sorriso a tutti credo che ci siamo riusciti.